Alla faccia di tutto il popolo catalano ragazzi, sede il mattino, riprendiamoci con un bel caffè Ok, buongiorno! Allora, ci aspetta un clima infernale, ok? Quei catalani che noi non ci siamo mai inculati, non ci siamo mai cacati Adesso hanno trovato nell'Inter il capo espriatorio Quella verdaccia di Xavi ha trovato nell'Inter il capo espriatorio Quando deve capire che lui come allenatore non può essere equiparato al Xavi giocatore Come disse Murigno, il mio dentista non ha mai avuto mal di denti ma è un ottimo dentista Xavi ha avuto mal di denti perché è stato un grande calciatore Però non sarà mai un grande allenatore ragazzi Se non riesce a vincere contro un'Inter in crisi a San Siro non è colpa dell'arbitro Ed è il fallo di mano di Danfris che ci abbiamo messo noi così coi binocoli Ci siamo messi così tutti col criterio a vederlo dopo 20 minuti Non sapevamo se era fallo o non era fallo Quindi Xavi è una merdaccia I tifosi del Barcellona sono delle super merdacce Perché non si fanno quei post, non si fanno quelle locandine di merda Dove pisci sul logo dell'Intel Capisco Real Madrid, capisco l'Espagnol, l'Atletico Bilbao che c'è rivalità territoriale Tutto quello che volete Ma avere tutto questo asso Che cosa è che... Vi brucia ancora il culo per il 2010? Mi dovete spiegare Che cosa vi fa male? Vi brucia... Allora scrivete Ci brucia Al posto di fare remuntada Inter vaffanculo Inter mera Scrivete Ci brucia Fate una bella coreografia Un bello station Ci brucia il culo dal 2010 E io lo riesco a capire E io vi posso capire Ma non memory della figuraccia che avete fatto all'andata Dove il nostro portiere è stato inoperoso Inoperoso Quindi due risultati su tre abbiamo ragazzi Sapete che io non confido troppo in questa Champions League Perché quest'Inter non ha le qualità tecniche strutturali Per vincere Per arrivare anche alle semifinali Quarti di finali Quindi meglio risparmiare energie Perché l'anno scorso è stato giusto l'anno scorso passare Perché giocare con squadre come Liverpool In Manchester City Eccetera eccetera Ti lascia sempre qualcosa E come per un fighter Fare sparring con Tyson Oppure fare sparring Con l'ultimo scemo della palestra Con Tyson le prendi Ma impari Con lo scemo della palestra Le dai Ti credi più forte Ti sopravvalli Poi vai in mezzo alla strada E ti battezzano Quindi va bene Va bene passare il girone Ma non quest'anno ragazzi Quest'anno già siamo troppo indietro Io sinceramente Me l'ho fatto la bocca buona Pensavo magari Di arrivare in fondo in Europa League Ma adesso dobbiamo arrivare agli ottavi di Champions League Uno perché la nostra maglia va sempre onorata Che l'Inter possa accedere agli ottavi Che l'Inter possa vincere o non vincere E accedere agli ottavi L'Inter la maglia A quei colori A quei colori Questi colori Questi colori che vanno sempre onorati A maggior ragione Quando ti mancano di rispetto A maggior ragione Quando ti fanno le locandine Dove un marmocchio catalano Catalani che poi a San Siro Non si presentano Mai Mai Never E allora se tu ci manchi di rispetto Io doppiamente Non devo solo onorare In miei colori Ma ti devo rompere il culo Quindi ragazzi Cerchiate di fare l'impresa Perché col Barcellona ragazzi Molto probabilmente Non ci sarà l'impresa Ma almeno un pareggio Perché il Barcellona Da secoli Da sempre Gioca in un campo Che dovrebbe essere irregolare Perché ha le misure Differenti Rispetto al 99% Di campi E questo lo dice mai nessuno Un Barcellona Che tutto quello che ha vinto L'ha vinto con merito Tutto quello che volete Però Che ha il fattore campo Non solo ambientale Ma dal punto di vista geometrico Che lo avvantaggia Da sempre E questo non ha detto mai nessuno Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Io mi finisco a bere il caffè Mi faccio una doccia al volo Vado a lavorare Perché noi rispetto ai catalani I sozzoni Vabbè Se no mi bloccano il canale Noi lavoriamo Ok Rispetto Rispetto ai catalani Eccetera eccetera Dai Viva l'Inter Ragazzi Iscrivetevi al canale Ti fate la campanella Mi raccomando Voglio l'impresa Eccetera eccetera eccetera